buonasera a tutti e sono molto felice di essere qui con voi questa sera perché è anche scusatemi sono anche un po emozionata perché non sono abituata a parlare in pubblico scusatemi se la voce tremerà un po allora io ho scritto per anni di dell'aicg e diciamo che l'abbiamo vista nascere ho scritto articoli ho letto articoli su gardenia su questo convegno annuale e sul pre e sul convegno annuale e per cui è un onore essere di persona questa volta qui a partecipare perché tu il pollice verde ce l'hai veramente bisogna dirlo perché anche tu nel tuo piccolo hai fatto un bellissimo progetto si diciamo nel mio piccolissimo coltivo da un progetto del cuore da 15 anni e allora praticamente parlavamo prima no della terra di quanto dia energia positiva e sono convinta che sia davvero così perché da 15 anni mi occupo di questo progetto del cuore consiste nella creazione ho creato un piccolo arboreto didattico in un terreno di famiglia in abruzzo e questo diciamo però è un progetto extra lavorativo che naturalmente è stato ispirato anche dal dai vent'anni passati nella redazione di gardenia a scrivere di giardini e di piante e allora in realtà sono qui al posto del direttore il direttore probabilmente voi la conoscete manuela rosa clott viene tutti gli anni partecipa tutti gli anni a questo congresso questo momento importante oggi non poteva mi ha detto di salutarvi di portarvi il suo saluto perché gardenia qui questa sera cosa centriamo noi allora gardenia è qui questa sera perché condividiamo con l'aicg la stessa missione la stessa ragione di essere cioè noi da 40 anni da quando esiste il giornale cerchiamo di raccontare questo mondo del giardino questo mondo del verde che un mondo estremamente complesso ma estremamente affascinante cerchiamo di farlo con dei servizi fotografici realizzati da fotografi professionisti esperti specializzati in piante in giardini cerchiamo di farlo con articoli che affidiamo a collaboratori esperti per i quali ci utilizziamo la consulenza di botanici ricercatori di voi vivaisti cerchiamo di fare al meglio di raccontare al meglio delle nostre possibilità a questo mondo per cui frutto di questa comune vocazione diciamo di questo comune questa comune missione di raccontare questo mondo abbiamo è nata così l'idea di istituire un premio annuale un premio che si chiama premio gardenia ecg che diamo tutti gli anni al garden o al vivaio che più si è impegnato per promuovere la cultura del verde in che modo si promuove la cultura del verde per noi per esempio un requisito importante è dare alle piante il giusto nome è un po un'ossessione per noi di gardenia ogni volta che c'è quando parliamo di una pianta non diciamo genericamente una rosa un glicine una quercia ma usiamo il nome scientifico il genere la specie la varietà ci sembra a qualcuno può sembrare un dettaglio in realtà non lo è perché dare il giusto nome alle cose vuol dire anche dare un volto alle cose gettare una luce sulle cose quindi permettere di conoscerle meglio altri requisiti per ambire diciamo questo premio sono avere per esempio personale nel garden nel vivaio in grado di dare dei consigli di coltivazione ai visitatori agli ospiti avere un giardino dimostrativo organizzare dei corsi di giardinaggio di potatura delle attività per i bambini come pure l'impegno la responsabilità ambientale quindi riutilizzare l'acqua piovana i pannelli fotovoltaici il packaging biodegradabile ecco tutti questi requisiti noi chi vuol partecipare a questo premio può rispondere a un questionario piuttosto dettagliato che abbiamo messo a punto e poi noi facciamo anche delle visite in incognito nei vivai per capire se quanto è stato raccontato se la descrizione se il questionario poi quanto è stato detto nel questionario corrisponde a verità questo premio è stato istituito cinque anni fa e il primo garden vincitore è stata la cooperativa leggo per non sbagliare è stata la cooperativa il germoglio di piacenza una cooperativa sociale onlus che fa lavorare anche disabili e persone con fragilità poi agricola home and garden di verese che tra l'altro un ambiente familiare per noi perché in questo garden andiamo a scattare le foto del servizio progettiamo il balcone poi è arrivato il momento della nel 2022 abbiamo assegnato questo premio all'azienda floricola donetti di romagnano cesia novara di cui stefano donetti è l'instancabile presidente di icg è il responsabile e l'anno scorso invece abbiamo dato questo premio al garden rosa flor di rosa vicenza della famiglia gestito dalla famiglia bisinella quest'anno a chi andrà il premio esatto siamo pronti rullo di tamburi un momento di suspense allora signore e signori il premio gardenia icg 2024 va ai vivai roagna di cuneo che chiamiamo sul palco non siate invidiosi complimenti complimenti allora due parole al vincitore poi ricordiamo in che modo sarà comunque certo celebrato all'interno di certo di gardenia beh mi si è azzerata la salivazione meno male che anche il tema era emozioni così le abbiamo completate tutte con questo ho fatto il pieno no grazie a tutti grazie ad icg perché io credo che insieme a mio papà mia sorella che abbiamo portato avanti l'azienda e stiamo portando avanti anche con l'ingresso dei figli icg per noi è la grande famiglia che ci ha permesso di confrontarsi ogni volta e portare a casa un valore aggiunto che è stata prima di tutto i rapporti umani e l'amicizia che si è creato in questi anni con ognuno di voi e questo per me è qualcosa di eccezionale e emozionante ogni volta e tutto questo ha portato sì che ogni volta cerchiamo di portare qualcosa di migliorativo all'interno del nostro grande garden e questo ci fa enormemente felici e questo premio è veramente inaspettato veramente emozionante grazie un premio meritato anche perché un premio meritatissimo anche perché nel vostro garden avete avviato anche una collaborazione con il parco fluviale ci può raccontare meglio sì il nostro garden è quasi all'interno proprio attaccato al percorso fluviale della nostra città che cuneo una piccola città però il parco molto frequentato e per cui abbiamo fatto questa collaborazione col parco che con le loro piantine loro attività vengono sia a farle nel nostro garden e sia noi andiamo a farle all'interno del loro percorso e per cui riteniamo che questo lega ancora di più il nostro lavoro con quello che è l'aspetto della natura che è assolutamente ci contraddistingue ed è questo il nostro mood sicuramente. E un'altra novità è che stanno per istituire per creare all'interno del garden una piccola casa modello dove cosa succede nelle varie stanze? Ma allora questo sicuramente è un frutto di una dei viaggi dei confronti con i nostri colleghi però nel nostro piccolo adesso andremo a ricreare una piccola casetta arredata studio cucina bagno e all'interno avranno per ogni stanza delle piante dedicate che verranno cambiate ma per far capire quanto il benessere all'interno delle case e il colore anche solo della pianta o comunque il fatto dell'ossigenazione e porta sicuramente un malo raggiunto sia a livello psicologico che di tutto quello che è la coreografia di una casa. Quindi noi il premio consisterà da parte nostra nella pubblicazione di un servizio sul numero di marzo di gardenia dedicato al vostro garden e anche in una finta copertina di gardenia nella quale questa è una copertina vera però ne prepareremo con la nostra art director una con un'immagine del vostro garden che se vorrete potrete esporre nel vostro garden a ricordo di questo premio grazie posiziona per la foto